Il concorrente Please please me, sopravanza, onda degli ulivi e Naxos scende alla corda Parte piano Oscar di Ieso Allargo in mezzo alla pista c'è anche Nobile Bass che punta in avanti 200 iniziali in 15 spaccato con Nobile Bass che va a chiedere strada a please please me In terza corsia risale Oscar di Ieso al fianco di onda degli ulivi che stampa in corda Naxos Il quarto di gara in 29 e mezzo Si va sulla seconda piegata la mossa di Oscar di Ieso che si protende al fianco di Nobile Bass Please please me, lì in corda insiste l'attaccante al completamento dei 600 Nell'ordiel 45 si viaggia davanti alle tribune con Oscar di Ieso che alla fine non senza spesa passa sul Nobile Bass Completamento del primo giro di corsa Passato nell'ordiel 58 e 9 Prosegue in avanti ora Oscar di Ieso Accenna a spostare dal gruppo con maggior decisione Onda degli Ulivi che non va oltre però oltre Please please me 14 e mezzo il chilometro con Oscar di Ieso in vantaggio Risale a largo Onda degli Ulivi Pedinato da Naxos si protende al fianco di Nobile Bass Quando accenera il leader al completamento dei 1.200 In 1.30 e mezzo 15 e mezzo Nella paletto adri-teila Oscar di Ieso in vantaggio Sulle sue tracce prove a Oimari Lungo l'arco della piegata finale Più produttivo Insieme a Ocean 12 Non ha spazio Please please me Ingressa a dritto arrivo con Oscar di Ieso Che a 1 e un quarto di margine nei confronti Oimari Accento al termine Oscar di Ieso in vantaggio Oimari che ci prova Nel tratto conclusivo però Oscar di Ieso tiene a bada Tutti i tentativi di Oimari A distanza terza Ocean 12 Su please please me